è il giorno di san michele la devozione dei nisseni si rinnova ogni anno auto rubata e ritrovata in poche ore a canicattì lavori in via romita parla l'assessore comunale frangiamone delia finanziamento per il campo sportivo carbello circa 700 mila euro ultima fatica del cantautore mussomelese geroriggio sbarca sul web serie di san cataldese in gol dopo 10 secondi città nuova k1 il turno infrasettimanale ben trovati è il giorno di san michele la devozione dei nisseni si rinnova anche quest'anno il servizio la pioggia lascia un po di amare in bocca proprio nel giorno in cui la città attende con grande fermento la processione in ore del santo patrono eppure la devozione nei confronti di san michele arcangelo rimane una costante per i numerosi fedeli che anche nei giorni precedenti si sono recati in cattedrale per una preghiera ammirare il suo simulacro chiedere una grazia e accendere un cero singolarmente oppure insieme alle varie parrocchie della città che hanno effettuato il pellegrinaggio la devozione si nutre della presenza di questi volontari che appartengono alle tre associazioni dei voti portatori la deputazione di san michele e anche la lega di san michele arcangelo oltre al loro contributo materiale alla loro presenza al loro coinvolgimento emotivo direi anche stiamo cercando in questi ultimi anni di coinvolgere le varie parrocchie della città vengono tanti fedeli sparsi lungo tutta la giornata portano i lumini vengono a fare la loro preghiera chiedere le grazie necessarie per le loro famiglie ecco c'è una devozione silente anche che non si vede ma noi che viviamo qui dentro la cattedrale notiamo la diocesi di caltanissette dunque con il coinvolgimento della parrocchia della cattedrale insieme al comune organizzano ogni anno i festeggiamenti in onore di san michele arcangelo ma ci sono anche delle realtà associative che da anni collaborano ciascuna con un ruolo differente c'è chi accompagna la processione come la lega di san michele chi si occupa del simulacro e cioè la deputazione chi lo porta a spalla i devoti portatori ciò che accomuna i loro componenti e la grande fede nei confronti del santo patrono per me è molto importante perché ho una devozione molto io verso san michele e poi è una tradizione che si tramanda dai miei nonni mio padre i miei zii i miei cugini eccetera eccetera io la mia famiglia san michele l'abbiamo chiamato ci ha risposto tante volte e io lo servo come come giusto quello che per un credente per un vedele io lo faccio con il cuore con l'anima perché ripeto l'abbiamo chiamato con la nostra famiglia e ci ha risposto sempre san michele come san michele come tutti i santi sono onorato e fiero di poter dire che sono uno dei devoti portatori di san michele la nostra storia è bellissima almeno credo che sia la storia mia sia la storia che possa essere la storia di tutti anzi credo proprio che sia così mi è venuta questa voglia di essere uno dei portatori di san michele è quello che noi spinge è un senso di devozione e ci spinge a fare questa questo grande di avere questo grande piacere un senso di devozione un senso di commozione che ci ci tiene tutto il tempo ci fa e ci tiene in uno stato di etereo ci dà una sensazione di di essere sollevati da terra ci dà tutti una inspiegabile un inspiegabile senso di commozione e quasi tutti abbiamo le lacrime agli occhi non si capisce perché però io so perché poi questo si manifesta si acuisce in qualche modo ancora di più nel momento in cui c'è l'uscita dalla cattedrale e l'entrata dalla cattedrale quello è credo che possa essere il il culmine della nostra devozione del nostro sentimento nei confronti di san michele sentimento che c'è tutto l'anno ovviamente però quello è il momento in cui credo non lo so per quale motivazione si esterna ancora di più in occasione della ricorrenza di san michele il questore di caltanissetta emanuele ricifari alla presenza di un picchetto d'onore ha deposto la corona al monumento ai caduti della polizia di stato alla deposizione hanno partecipato anche il prefetto di caltanissetta chiara armenia il sindaco di caltanissetta roberto gambino hanno assistito alla cerimonia anche funzionari e personale della questura i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della polizia di stato e l'amministrazione civile dell'interno una rappresentanza anche del nucleo di protezione civile caltanissetta 1 presenti anche i familiari dei caduti della polizia di stato ci spostiamo adesso a canicattì autorubbata e ritrovata in quel di canicattì grazie all'intervento della polizia disavventura durata poche ore conclusasi con un lieto fine per un giovane di canicattì questi aveva infatti parcheggiato la sua auto in via lecce a canicattì ma ieri mattina quando è andato a riprenderla ha scoperto che purtroppo qualcuno l'aveva rubata la prima cosa da fare era naturalmente quella di denunciare il furto al commissariato di polizia e quindi il giovane ha subito segnalato l'accaduto agli investigatori i quali hanno immediatamente avviato le ricerche controllando anche la presenza di impianti di videosorveglianza nella zona e verificando se le telecamere posizionate nei vari punti della città avessero magari ripreso l'auto rubata e l'autore o gli autori del furto nel pomeriggio l'equipaggio di una volante ha poi individuato la panda rubata nel corso di un pattugliamento i poliziotti hanno eseguito gli accertamenti del caso per vedere se era possibile risalire agli autori del furto e poi hanno riconsegnato l'auto parcheggiata in una via del centro storico al proprietario ancora da chiarire le ragioni legate al furto ad esempio se l'auto sia stata usata per scopi illeciti o altro sono quattro i magistrati stranieri che provengono da paesi europei che stanno partecipando al programma di scambi brevi nel distretto della corte d'appello di calta nissetta questa mattina hanno fatto visita alla questura ad accompagnare i magistrati simone petrelia tutor locale della struttura territoriale di formazione della scuola superiore di magistratura gli ospiti hanno assistito a una serie di presentazioni tenute dai funzionari della polizia di stato riguardanti le attività pratiche di polizia giudiziaria controllo del territorio e polizia scientifica dopo la visita in questura i magistrati si sono spostati al centro per stranieri di pian del lago obiettivo di questi programmi di scambio europei è quello di fare conoscere ai magistrati il funzionamento del sistema giustizia nel complesso nei vari paesi europei l'incontro in questura è stata un'occasione utile per un confronto tra esperienze di lavoro e sistemi legati alla polizia giudiziaria dei diversi paesi i quattro magistrati sono svetlina mia lova del tribunale penale di sofia in bulgaria suzana sinca cova del tribunale civile di cosice in slovacchia vladimir berezovski del tribunale penale di vilnius in lituania e fred fisher del tribunale civile della contea di arigio in estonia adesso parliamo di lavori in via romita a raccontarci a che punto sono l'assessore ai lavori pubblici marcello frangiamone era gennaio 2015 quando in via romita si verificò il crollo del muro di sostegno portandosi via anche un pezzo di marciapiedi tanta paura soprattutto per i residenti della zona e del tratto finale della strada interessato dal cedimento adesso a distanza di poco più di sette anni lavori di messa in sicurezza sono iniziati già da qualche settimana lavori che saranno utili anche in vista del progetto di realizzazione del collegamento tra via romita e via rocister così come ci spiega l'assessore al ramo marcello frangiamone sono in corso i lavori per la sistemazione di una della tratta finale dell'attuale via romita che parecchi anni or sono frano e i lavori consistono appunto nella risistemazione del muro di sostegno di questa curva per appunto rimetterla per risistemarla diciamo per come era come era previsto questo lavoro diventa fondamentale perché a seguire sempre lungo la via romita si innesterà quella che sarà la futura strada che partirà appunto da quel punto da quella zona quindi da via romita stesso per arrivare fino a per arrivare fino a via rocister si tratta di un lavoro che è stato finanziato dal pnr per quanto concerne appunto questi lavori siamo in fase di progettazione in questo momento è stato fatto il rilievo topografico dell'area qui seguirà poi il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori e poi successivamente appunto si andrà in appalto e si realizzerà l'opera ci spostiamo adesso a delia finanziato il campo sportivo carbello sono circa 700 mila gli euro previsti per la ristrutturazione continua il lavoro dell'amministrazione bancheria delia per migliorare le strutture già esistenti nel territorio dopo aver preso finanziamenti nei mesi scorsi riguardanti l'efficienza energetica con sostituzione dell'illuminazione pubblica ma anche per ristrutturare la palestra la biblioteca e le varie scuole della cittadina infatti ad essa arriverà un altro importante aiuto questo servirà per ristrutturare il campo sportivo comunale michele dario carbello un finanziamento imponente che si aggirerà intorno a 700 mila euro e che sarà disponibile entro la fine dell'anno corrente la buona notizia è arrivata nella giornata di martedì ed è stata annunciata direttamente dal sindaco gianvilippo bancheria ai nostri microfoni finalmente delia ottiene il finanziamento per il campo sportivo siamo quasi arrivati a 20 milioni di euro i finanziamenti per un comune sotto i 5 mila abitanti questo finanziamento è regionale però a valere su fonti nazionali è un finanziamento di 700 mila euro a fondo perduto quindi a totale carico di finanziamenti esterni e prevederà per il nostro campo sportivo michele dario carbello la sistemazione delle tribune la sistemazione di tutte le la recensione esterne tutte le mura perimetrali poi prevederà anche la si il manto erboso del camp e la sostituzione il manto erboso il campetto di calcetto annesso al campo sportivo prevederà la copertura a fotovoltaico di tutta la tribuna la sistemazione anche dei dei servizi igienici e anche una alcune opere di consolidamento quindi 700 mila euro a totale copertura esterna che servirà a dare un restyling totale al nostro impianto sportivo il decreto finanziamento arriverà nel mese di dicembre e deve concludersi tutto entro 18 mesi a decorrere dalla data di finanziamento quindi un ennesimo risultato importante per delia che va nella direzione di riqualificare migliorare ed efficientare tutte le strutture del nostro paese pubblicato il nuovo bando per l'apprendistato di primo livello promosso dal dipartimento dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio dell'assessorato all'istruzione alla formazione professionale nella regione siciliana con una dotazione di 3 milioni di euro a valere sulle risorse statali l'avviso è rivolto alle scuole di secondo grado statali e promuove un nuovo paradigma educativo basato sulla diffusione del modello di apprendimento duale che integra formazione e lavoro in sinergia con le imprese del territorio attraverso l'apprendistato di primo livello gli studenti delle scuole iscritti all'anno scolastico in corso e residenti in sicilia potranno individuare il percorso professionale e formativo più adatto alle proprie esigenze finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale del diploma di istruzione secondaria e di secondo grado e del diploma professionale gli istituti di secondo grado statali potranno quindi fare domanda e lo faranno per partecipare alla formazione del nuovo catalogo dell'offerta formativa in apprendistato parliamo adesso della proroga del termine al 31 ottobre 2022 per presentare le istanze che riguardano l'avviso di aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte e agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto russo-ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori del consorzio di bonifica della sicilia in entrambi i casi le istanze devono essere inviate in formato cartaceo le modalità sono indicate nell'avviso del 30 agosto 2022 esclusa la possibilità di inviarlo via pec il dipartimento regionale dell'agricoltura precisa che nel caso degli aiuti agli agricoltori debitori dei consorsi di bonifica è possibile ricevere il contributo eccezionale anche nei casi di regolari e documentati procedimenti di subentro nella gestione aziendale e nei casi di gestione di affitto delle aziende l'importo minimo di aiuto è di 300 euro e nei casi di aziende agricole ricadenti su più consorsi di bonifica potranno essere presentate più domande di aiuto una per ciascun consorzio di appartenenza l'importo massimo concedibile per ogni agricoltore rimane fissato a un tetto di 35 mila euro adesso cambiamo argomento parliamo dei 10 interventi da oltre 12 milioni di euro su altrettanti corsi d'acqua che servono alla riduzione del rischio idrogeologico i finanziamenti del governo musumeci nel corso dell'ultima seduta di giunta riguardano i torrenti oggetto di opere di manutenzione sono stati individuati dagli uffici dell'autorità di bacino della regione siciliana si tratta di interventi inseriti nel piano di azione e coesione 2014-2020 i primi 10 cantieri sui quali l'autorità di bacino avvierà nel più breve tempo possibile le necessarie procedure per l'esecuzione delle progettazioni esecutive riguardano anche il canale mollarella e due affluenti per un totale di 463 mila euro di spese per l'intervento nella zona dell'agrigentino e il fiume di taino e il torrente calderari valguarnera in questo caso l'intervento avrà un costo di un valore pari a 3 milioni e 200 mila euro nella zona dell'ennese dalla musica allo sport è il momento di parlare della serie di la san cataldese in gol dopo 10 secondi cittanova ko nel turno infrasettimanale bastano 10 secondi alla san cataldese per andare in gol a cittanova in calabria nel turno infrasettimanale di serie di e raul torregrossa a firmare uno dei gol più veloci della storia verde amaranto e non solo un avvio fulminante che consente alla formazione di matteo bullo di portare a casa i primi tre punti della stagione in uno dei campi più difficili del girone i dopo la rete l'undici verde amaranto non abbassa la guardia e controlla il match con il piglio della squadra di rango il cittanova prova come può mettere alle corde la san cataldese ma dolenti e compagni non si lasciano sorprendere rischiando raramente il gol del pari e proponendosi più volte in fase offensiva con ordine e raziocinio senza strafare con un solo obiettivo vincere al triplice fischio finale le urla di gioia di un massiccio numero di tifosi san cataldesi in trasferta i risultati della seconda giornata canicattia cireale 2 a 0 sant'agata reala versa 1 a 2 cittanova san cataldese 0 a 1 paternò santa maria cilento 2 a 1 mariglianese ragusa 0 a 2 vibonese licata 2 a 1 castrovillari lamezzia 1 a 2 catania san luca 2 a 1 locri trapani si giocherà il 12 ottobre la classifica reala versa vibonese lamezzia e catania 6 punti castrovillari sant'agata san cataldese ragusa locri canicattia e paternò 3 trapani cittanova a cireale e mariglianese 1 san luca licata e santa maria cilento 0 parliamo adesso della coppa italia derby senza gol fra nissa e acragas la squadra bianco scudata attende il nuovo allenatore la prima nissa senza alessandro settineri in panchina è sostituito momentaneamente da fabio vennero aspettando l'annuncio del nuovo tecnico impatta 0 a 0 nell'andata di coppa italia giocata al palmindelli contro l'acragas una partita dove entrambe le squadre hanno badato di più al risultato che al gioco e quindi la qualificazione passa adesso nella gara di ritorno da giocare all'esseneto di aggrigendo il prossimo 12 di ottobre adesso i bianco scudati penseranno alla gara casalinga di domenica 2 ottobre contro la parmonval dove gli uomini del presidente sergio iacona proveranno a trovare la prima vittoria in campionato chissà magari con il nuovo allenatore in panchina l'unica cosa che mi sento di garantire è che la società ha un progetto di crescita e che tutte le scelte che sono state fatte che saranno fatte sono nell'obiettivo di questa crescita per cui a breve tra qualche ora annunceremo il nome del nuovo allenatore si tratta di una scelta di qualità di persona che ha esperienza e grandi capacità e soprattutto anche disposta ad impostare in serenità un programma di pre di crescita pluriennale quindi io invito soprattutto la tifoseria ad essere paziente perché tutti noi siamo tutti nuovi i giocatori sono tutti nuovi e piano piano si troverà l'assetto che dovrà dare le giuste soddisfazioni al pubblico di caltanissetta sapevamo di affrontare un avversario arrabbiato offeso e quindi poi se ci mettiamo pure il terreno di gioco diciamo che quando provi e pensi a fare gioco è sempre molto più difficile che difendere quindi tutto sommato un pareggio che ci prendiamo ben volentieri ci giocheremo tutto nella partita di ritorno è stata una partita equilibrata dove il risultato credo sia giusto anche se noi abbiamo abbiamo creato molte più situazioni da da gol però ti ripeto in questo campo già non avere preso gol spero di non avere perso nessuno è già una grande cosa allenamento dei giovani dello sport club nissa con i tecnici del verona continua annualmente l'affiliazione tra lo sport club nissa di natale ferrande e l'ellas verona anche ieri ai campetti di calcio lombardo si sono ritrovati i ragazzi dello sport club nissa per l'occasione vestiti in divisa con i completi della società scaligera che fu campione d'italia nel 1985 per l'occasione si sono ritrovati i tecnici nisseni con i tecnici del verona motivo di confronto e crescita professionale tra di loro ma anche per i ragazzi dello sport club nissa per far conoscere loro i metodi di lavoro di una squadra di serie a e per conoscere le basi del professionismo augurandoci che tra di loro possa uscire un campioncino in erba che possa giocare tra le file dell'ellas verona così come fece negli anni 90 l'attaccante nisseno fabrizio cammarata lo sport club nissa questo gemellaggio questa affiliazione con l'ellas verona è sempre un piacere ogni anno accogliere alcuni rappresentanti degli allenatori e quindi dei colleghi che lavorano a verona appunto con l'ellas è un momento formativo importante soprattutto per i nostri ragazzi ma anche per noi tecnici perché è un tipo di confronto che ci fa crescere sulle metodologie di lavoro è un'affiliazione che è nata grazie all'aiuto di il nostro responsabile che è riuscito a trovare appunto questa società per permettere non solo a noi di imparare cose nuove ma anche ai ragazzi e agli allenatori del missa di conoscere comunque il mondo del professionismo questa edizione del nostro telegiornale termina qui vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità ben trovati un aggiornamento con le previsioni di trabimeteo giornata di venerdì quando una zona di bassa pressione interesserà il mediterraneo centrale anche l'italia con rovesce temporali per un miglioramento dovremo attendere poi la giornata di sabato e domenica quando tornerà più sole intanto possiamo notare queste correnti umide oceaniche che si tufferanno sul mediterraneo alimentando molta variabilità tempo a tratti incerto con possibilità di piogge rovesci la grafica è emblematica con qualche rovescio temporale sparso al nord ma anche gran parte del centro sud la campagna meno esposto solo il vessante ionico tra l'altro qui con clima estivo invece al nord clima decisamente più fresco simile autunnale i dettagli maggiori gli approfondimenti li trovate sull'app di trabimeteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno caltanissetta servizio diurno san pio decimo via napoleone colaianni servizio notturno croce verde viale della regione risolata 2 4 5 6 6